E' con quasi 48 ore d'anticipo che l'Arezzo Calcio ha rispettato la scadenza del 15 luglio. Dalle casse Amaranto sono così usciti 120.000 euro, una cifra che è stata pagata utilizzando i contributi arrivati dalla Lega oltre alle risorse del presidente Giorgio Lacava e di Orgoglia Amaranto. I soldi sono destinati a saldare la differenza non coperta dalla cassa integrazione per tutti quegli stipendi sotto i 50.000 euro lordi a stagione. La cassa integrazione infatti copre 9 settimane per tutti coloro che hanno un ingaggio inferiore ai 50.000 euro. Lo scorso 17 giugno era stato raggiunto un accordo con calciatori e staff che avevano rinunciato alla mensilità di giugno. Chi ha beneficiato della cassa integrazione ha quindi avuto tramite il fondo salvacalcio parte della retribuzione pari a 9 settimane. La differenza è stata a carico del club Amaranto che adesso deve saldare anche i contratti superiori e 50.000 euro lordi a stagione che verranno saldati entro fine mese sempre con la stessa linea. Il futuro dell'Arezzo Calcio è stato poi anche uno dei temi trattati nel corso della diretta Facebook settimanale del sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli. Ho sentito il presidente pochi giorni fa, mi ha detto che la trattativa per la vendita è ancora in piedi, che lui intende vendere alla società, ma che mi ha anche dato una buona notizia e cioè che la trattativa con i calciatori è andata a buon fine e che quindi lui ha concordato, così mi dice lui, ma non ho motivo per non crederli, ha concordato un pagamento parziale degli stipendi dei calciatori per i mesi in cui non hanno giocato e non si sono potuti nemmeno allenare, che era poi la condizione che lui aveva riferito a me per poter arrivare all'iscrizione della società al campionato di calcio. Per cui mi ha dato assicurazioni circa il fatto che la società verrà iscritta al campionato. Questo non significa che i problemi di Arezzo siano finiti, ce ne sono ancora altri di chi hanno a che fare con la capitalizzazione della società, chi hanno a che fare con questioni legate all'economia della società stessa, ma la Cava, che è un galantuomo, fatemelo dire, ha deciso di iscrivere comunque la società al campionato. Quindi credo che sia il risultato alla fine che importava a tutti di poter conoscere.